Se cerchi la vera santità di padre Stefano Maria Manelli Quando padre Pio era ancora vivo, capitava che diversi pellegrini si decidevano a venire da lui soltanto per i fatti straordinari che di lui si raccontavano, credendo che a solo vederlo avrebbero potuto assistere a qualcuno di quei fatti straordinari. Ma succedeva che dei fatti straordinari uditi non vedevano nulla e dovevano accontentarsi, quei pellegrini, di vedere soltanto i mezzi guanti alle mani di padre Pio, dietro i quali c'erano le famose stimate sanguinanti ben coperte e nascoste. Ciò creava in alcuni una delusione con la scontentezza di aver fatto un viaggio lungo fino a San Giovanni Rotondo, senza vedere altro e senza aver udito nulla da padre Pio per l'impossibilità di parlare con lui a causa della grande folla di gente. Per questi pellegrini delusi vale appunto il pensiero di padre Pio che dice con tutta chiarezza «Le virtù sono quelle che santificano l'anima e non i fenomeni sopranaturali». Ogni santo è tale perché possiede le virtù eroiche di Gesù e non per i fenomeni straordinari che gli avvengono. I fenomeni sopranaturali possono essere la conferma o una garanzia della santità di una persona, mentre la santità in sé stessa è costituita soltanto dalle virtù eroiche praticate e vissute dal santo. Padre Pio, ad esempio, non è stato proclamato santo perché aveva le stimate o le estasi o il dono dei miracoli. No, egli è stato proclamato santo perché aveva le virtù eroiche di Gesù, ossia la carità, l'umiltà, la preghiera, il sacrificio, la povertà, l'obbedienza, ecc. Lo stesso sta succedendo nei riguardi del santuario mariano di Meggiugorie, dove tanti si recano a far visita per sapere e vedere le apparizioni della Madonna. E non si vuol capire che le apparizioni non fanno santo nessuno e che le grazie della Madonna si hanno non per le apparizioni della Madonna, ma perché si hanno e si praticano le virtù della Madonna, la sua umiltà, carità, purità, obbedienza, preghiera, penitenza. Sono le grandi virtù che fanno la santità dei santi che ottengono le grazie da parte dei santi. Questo è l'insegnamento di Padre Pio alla scuola di tutti i santi e dobbiamo stare tutti attenti a seguire sempre l'insegnamento della sua vita e della sua dottrina che ci portano alla santificazione per il più bel paradiso. Grazie a tutti.